Pan brioche sofficissimo, latte, miele e mandorle. Nel boccale della planetaria unite al latte tiepido il burro fuso e il lievito. Mescolate con un gancio a foglia. Setacciate le due farine, aggiungetele al composto, quindi cambiate il gancio mettendo quello a spirale in modo che il composto si possa ben incordare e lasciatelo lievitare per circa 30 minuti. Poi stendetelo con le mani e procedete a fare le pieghe e ripetete questa operazione di lievitazione un'altra volta. A questo punto prendete il composto e dividetelo in sei parti uguali. Stendete ogni parte e all'interno di ogni pezzettino farcite con miele e mandorle. Procedete anche alla chiusura di questi pezzetti e appoggiateli su una teglia del diametro di circa 20 centimetri. Spennellate il tutto con acqua e miele, cospargete di mandorle e cuocete in forno statico 200 gradi per circa 25 minuti. Grazie. Grazie.